Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Tg Plus, il telegiornale di approfondimento dedicato alle principali tematiche del momento tra l'attualità, la politica, l'economia e la cronaca, tematiche che ovviamente riguardano le notizie dell'ultima ora. Diciamo che è da tempo che si discute del concetto della manovra, ma i temi legati intorno alla manovra si sono accesi soprattutto alla luce della giornata di ieri dopo le stime di Banca Italia, che letteralmente boccia la legge di bilancio, specifica alcuni tasti dolenti tra i quali il reddito di cittadinanza, non solo i temi legati anche a fattori esterni come il PNRR, ma sono numeri che ci fanno capire che questa manovra ha tanto di dibili che si può discutere a questa legge di bilancio. Cerchiamo di capire al meglio cosa accade all'interno delle stanze dei bottoni, lo facciamo con Giovanni Manco. Giovanni, ben trovato. Buonasera. E Stefano Rizzuti per www.it. Stefano, ben trovato. Grazie, buonasera. Ascoltiamo proprio la Banca d'Italia attraverso le parole di Balassone, che però appunto ieri lo ha annunciato in una conferenza a stampa, o meglio in un dialogo aperto con i giornalisti, questo rapporto di dissidio all'interno della manovra. I tassi dolenti, sentiamo cosa ha detto e poi lo commentiamo insieme. Il disegno di legge prevede che dal prossimo gennaio la soglia massima di utilizzo del contante nelle transazioni, attualmente pari a 2.000 euro, venga innalzata dal livello previsto per allora dalla legislazione vigente pari a 1.000 euro a 5.000. Il disegno di legge introduce inoltre un limite pari a 60 euro, al di sotto del quale non si applicherebbero le sanzioni per gli esercenti che non accettano mezzi di pagamento elettronici. Tale misure, contrariamente a quanto avvenuto complessivamente negli ultimi anni, vanno nella direzione di agevolare l'utilizzo del contante. A livello europeo, mentre in alcuni paesi, tra i quali la Germania non è prevista alcuna soglia massima per la montare delle transazioni in contanti, in altri sono previsti tetti inferiori a quello indicato nel disegno di legge. 500 euro in Grecia, 1.000 in Francia e in Spagna, 3.000 in Belgio. Rispetto al 2016, la percentuale di transazioni operate con il contante è diminuita in Italia, anche per effetto della pandemia, rimanendo comunque al di sopra della media europea. Come già ricordato in passato, i limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità e di evasione. In particolare negli ultimi anni sono emersi studi, anche condotti nel nostro istituto su dati italiani, che suggeriscono che soglie più alte favoriscano l'economia sommersa. C'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle transazioni ridurrebbe l'evasione fiscale. Allora, noi cerchiamo di rendere un po' più fruibile a chi ci guarda da casa il tema in maniera semplice e cristallina. In queste dichiarazioni Balassone sottolinea il fatto che tra i principali nodi della discordia c'è il tema del tetto al contante e quello anche dei pagamenti attraverso POS dei prezzi e delle merci al di sotto dei 60 euro, ovviamente pagamenti che non sarebbero più soggetti ad obbligo. Ci sono anche tanti altri temi, il reddito di cittadinanza, le tematiche collegate alla flat tax. E come vedete voi questa bocciatura da parte di Banca Italia? Perché non è una cosa da poco, forse è passata un po' in sordina, ma ci fa capire tanto del destino del governo. Giovanni e poi Stefano. Sì, è un commento senza dubbio rilevante nel quadro di questi temi, che tra l'altro si aggiunge poi a quello anche di Confindustria, che ha fatto trapelare le criticità simili, ma anche qualche punto positivo, soprattutto relativo all'oculatezza dei conti e al rispetto anche un po' degli impegni presi con l'Unione Europea. Infatti io dividerei questa manovra un po' in due filoni, attraverso i quali secondo me il governo ha cercato di salvare capri e cavoli, cioè da una parte c'è un'attenzione, una cautela nella spesa pubblica, dall'altra ci sono molti passaggi identitari dall'abolizione del reddito di cittadinanza alla flat tax che ho menzionato prima a quota 103, quindi cose che in certo senso vanno nella direzione dell'accountability dell'elettorato di centrodestra. In mezzo ci sono questi due temi, del tetto al contante e dell'obbligo relativo ai pagamenti con il POS, che oltre alle criticità del presidente di Banca Italia e quello di Confindustria, mi sembra che abbiano riscontrato anche delle perplessità da Bruxelles, dall'Unione Europea. Quindi ecco, mi aspetto e chiudo che questa attenzione un po' agli standard europei che in lunghi tratti e lunghi passaggi della manovra si possano ravvedere, trovi prosecuzione anche dal punto di vista di questi due interventi. Quindi ora, mi aspetto un totale dietrofronta, ma almeno un lavoro di laborlime di questi due interventi in manovra. Beh sì, laborlime più che mai è necessario, anche perché è una cosa che porta il destino degli italiani sulle varie spalle. Stefano, ora Giovanni ha citato Confindustria, io leggo le dichiarazioni di Carlo Bonomi, che ha rilasciato nella giornata di ieri, flat tax e prepensionamenti bruciano risorse per la crescita, cito testualmente. Alcuni interventi previsti come quelli sulla flat tax e prepensionamenti bruciano risorse che sarebbero da destinare a misure per lo sviluppo e la crescita del Paese. dice, inoltre, i prepensionamenti non producono più posti di lavoro, non c'è neanche l'effetto sostitutivo, non c'è neanche lo scalone. Insomma, Stefano, che idea ti fai di queste dichiarazioni da parte di Carlo Bonomi, che ovviamente coinvolgono non solo Banca Italia, ma quanto Presidente di Confindustria, anche un settore importante dal punto di vista lavorativo? Di fatto sono dichiarazioni molto simili a quelle della Banca d'Italia, ma anche degli altri esperti che sono stati auditi in questi giorni in commissione sulla manovra. Il ragionamento è sempre lo stesso, si è investito molto su misure che sembrano più essere identitarie per accontentare una parte dell'elettorato, sicuramente lo è la flat tax, ma anche il discorso delle pensioni, uno dei cavalli di battaglia di Salvini. Alla fine la quota 103 costerà, non aderiranno tantissimi lavoratori, non porterà a crescita, in più, invece comporterà un abbassamento della rivalutazione delle pensioni per chi guadagna più di 2.000 euro. Quindi è contestata per vari motivi. C'è un discorso di mancata visione di crescita, è quello che dice Bonomi, non si è pensato in un momento difficile come quello attuale con l'inflazione e il caro energia, non si è pensato più di tanto per esempio ai lavoratori, a chi è più in difficoltà e chi più deve sostenere poi la domanda ai consumi. Alla fine non a caso Bonomi critica spesso l'intervento sul cuneo fiscale, è vero, è stato leggermente aumentato rispetto a quello attuale per chi guadagna meno di 20.000 euro di reddito, ma di fatto è poca cosa, parliamo di 10-15 euro in più in busta paga. Mentre se si sono spesi molti più soldi per misure come i prepensionamenti o la flat tax che di fatto probabilmente serviranno poco. Sulla flat tax tra l'altro pensiamo anche a quello che ha detto la Banca d'Italia ieri, si sta continuando a favorire il regime delle partite IVA, chi guadagna però parliamo di cifre comunque non proprio bassissime, cioè la soglia passerà da 65 a 85.000 euro, non intervenendo invece sui lavoratori dipendenti. Quello che dice la Banca d'Italia è che i dipendenti sono ancora più sfavoriti, soprattutto in un periodo come quello attuale con un'alta inflazione, e non hanno nessuno strumento per rispondere, perché poi di fatto continuano a pagare molte più tasse di quanto invece ne pagherà chi rientrerà nella flat tax e quindi pagherà il 15% di tasse entrando in questo regime forfettario. Ed è più o meno la stessa cosa che sottolinea Bonomi, ma che hanno sottolineato anche gli esperti del CNEL, diciamo un po' tutti sono concordi su questa visione e un po' tutti sono concordi sul problema riguardante proprio il contante e il POS. A me sembra che siano tutti d'accordo, come hai detto tu molto bene Stefano, ma che quando si è tutti d'accordo su una cosa significa che la cosa verso la quale non si è d'accordo solitamente non funziona. Ora io non mi metto là a sindacare le manovre economiche del governo Meloni, indubbiamente il mio compito è analizzarle insieme a voi, però è una prassi tipicamente umana che quando in molti non sono d'accordo su un tema allora qualcosa, non dico che va stravolto, ma va quantomeno di fisto. Si sta difendendo però Fratelli d'Italia sul punto, perché si parla, come avete sottolineato, di misure identitarie, ma non è soltanto quello del noto della discordia, quantomeno così ha spiegato l'onorevole Lollo Brigida che sentiamo in questo estratto video, si è espresso così e poi analizziamo il ruolo di Giorgio Meloni all'interno di questa situazione delicata per la gestione del denaro pubblico a livello nazionale. Sentiamo Lollo Brigida. Io credo che il Parlamento in Italia sia sovranno, lo abbiamo sempre detto quando eravamo all'opposizione, lo diciamo ancora oggi che siamo al governo, per cui il governo in maniera unitaria è presentata la migliore proposta possibile, con l'affermazione chiara della Presidente Meloni fin dall'inizio che la sottoponeva al Parlamento perché potesse essere giudicata e anche eventualmente modificata per migliorarla. Ovviamente da questo punto di vista c'è chi contribuisce con proposte e chi invece ha atteggiamenti pregiudiziali. Con i primi dialoghiamo volentieri anche ovviamente all'opposizione oppure con grandi apparati che fanno dei rilievi delle sottolineature per cercare di confrontare le ricette. Noi siamo convinti delle nostre idee ma siamo anche abbastanza intelligenti da rispettare le idee degli altri e dove ci dimostrassero siano migliori delle nostre applicarle. Diciamo che l'onorevole Lollo Brigida rilascia dichiarazioni prettamente politiche, non va tanto nel contenuto, però è chiaro che in questi giorni Giorgio Meloni si sta difendendo più che altro sui contenuti della manovra, li porta avanti soprattutto nel dialogo con i sindacati che avverrà, se non sbaglio, domani, tra l'altro in un momento storico cruciale per l'Italia. Giorgio Meloni adesso come dovrà intervenire secondo voi? Dovrà portare avanti oppure dovrà scendere a compromessi per la prima volta da quando è al governo sulla manovra? Giovanni e poi Stefano. Ma ripeto un po' quello che ho detto prima, nel senso che da un certo punto di vista Meloni ha anche cercato di dare continuità all'operato avviato da Mario Draghi, molti miliardi sono stati spesi sul fronte del caro bolletto e caro energia ma non c'è nulla di inventato, sono quasi tutte politiche che sono state portate avanti avviati dal precedente governo. C'è anche una sorta di attenzione alla spesa pubblica e a portare avanti appunto questo operato. Quindi se Meloni, come ha anche cercato di far vedere in tutta la sua campagna elettorale, i temi di bandiera, i temi identitari di centrodestra, vuole cercare comunque di tenere un occhio alla cura dei rapporti internazionali con l'Unione Europea ed vuole mostrare anche che l'Italia è un paese affidabile, deve fare due cose. La prima è cercare di ricepire questi segnali e quindi rivedere un po' questi interventi che stanno riscontrando non un po' di criticità e torno, mi riferisco di nuovo al tetto accontante e ai pagamenti con il POS. E l'altro è portare avanti gli obiettivi sul PNRR, perché molti li ha portati a casa Mario Draghi, molti dei 55 da concludere entro la fine dell'anno, ma ne restano più di 20 se non sbaglio. Quindi c'è un grande affare, gli obiettivi vanno chiusi entro la fine dell'anno. Quindi da questo punto di vista, se vuole perseguire questa nuova immagine di affidabilità europea, mi dovete ricevere un po' i messaggi che stanno arrivando e accelerare. Sì, sarà un Natale sicuramente burrascoso. Che ne pensi Stefano di questi due punti tracciati da Giovanni? Sei d'accordo? Sì, sicuramente su alcune misure non interverrà. Non si toccherà tutta la parte relativa al caro energia, che poi di fatto è più di metà della legge di bilancio. Probabilmente non interverrà, se non per cose comunque marginali, su misure come la tregua fiscale o la flat tax o la quota 103, mentre probabilmente invece dovrà, anzi sicuramente a questo punto, vista l'interlocuzione in corso con Bruxelles, dovrà intervenire sul discorso del più che del tetto al contante dell'obbligo di post, su cui sembra quasi certo un passo indietro. Non solo perché è stata criticata dalla Banca d'Italia, da Bonomi, ma praticamente da chiunque su questa misura, ma perché torna in ballo il PNRR. Tra gli obiettivi del PNRR che l'Italia deve assolutamente raggiungere c'è il contrasto all'evasione fiscale e l'Europa ha già detto chiaramente che eliminare l'obbligo di post sotto i 60 euro vuol dire andare esattamente nella direzione opposta. Un po' lo si fa anche con il tetto al contante a 5.000 euro, che non viene visto bene ovviamente dalla Commissione, anche se in quel caso c'è meno rigidità. Mentre sul discorso del POS sembra quasi certo che ci sarà un passo indietro perché è una misura che non piace a lui, che comunque anche Meloni stessa ha detto che non difenderà a tutti i costi. Un ritocco ci può essere, la cifra era solo simbolica secondo quanto aveva detto la stessa Meloni all'inizio, quindi probabilmente questa cifra scenderà a 30 euro, a 40, se non addirittura verrà cancellata completamente, per cui si tornerebbe alla situazione attuale, ovvero esercenti e professionisti sarebbero sempre obbligati ad accettare i pagamenti con carta e bancomat. Al di là di questo probabilmente non ci saranno grandi interventi, ci sono anche pochi soldi a disposizione del Parlamento per modificare la legge di bilancio. Inoltre è una legge di bilancio che è stata scritta in fretta, perché i tempi erano effettivamente stretti, che verrà discussa in fretta anche in Parlamento, quindi è probabile che non essendo peraltro una manovra enorme, perché se pensiamo che più di 20 miliardi sono andati solo agli interventi sulle bollette, è difficile pensare che ci siano altre grandi modifiche. Certo, anche perché alla luce di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi, modificare ancora potrebbe forse corroborare il rapporto tra Italia e Unione Europea, il rapporto in Italia tra Parlamento e il Governo è un rapporto nuovo alla luce del voto del 25 settembre, ma resta sempre il tema della grande discussione. Si parla di misure e bandiera e il reddito di cittadinanza per anni è stata la misura bandiera del Movimento 5 Stelle. Lo è tuttora, rischia però uno smantellamento, una revisione. Qualcuno ha addirittura parlato di una abolizione, seppur ci si dovrà arrivare gradualmente. Giuseppe Conte ha parlato proprio di questo. Noi lo ascoltiamo e poi commentiamo insieme ai nostri ospiti la misura del reddito di cittadinanza, cosa potrebbe accadere se dovesse esaltare subito i risvolti futuri. Giuseppe Conte. Oggi la banca Italia ha portato la manovra dopo la 2 secondi, dopo Confindustria e tante altre autorità indipendenti. Noi in questo modo ci stiamo avviando, viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l'evasione di cittadinanza. Vengono premiati i cittadini che girano con 5.000 euro di contante. Questo è fortemente recessivo per il Paese, perché abbiamo un'economia sommersa che viene favorita, evasori e corrotti che vengono favoriti, chi lavora con il riciclaggio di denaro. Noi dobbiamo invece recuperare quegli oltre 100-120 miliardi che sono l'economia sommersa, sottraggono la ricchezza del Paese, alla gente onesta. Di fatto ci ritroviamo con un governo che è molto forte, con i poveri, ma anche con il ceto medio. Ieri Crosetto ha dovuto ammettere in tv che questa manovra penalizza anche il ceto medio completamente impoverito, mentre invece fa assolutamente sinchina, in Europa sinchina ai poteri forti. Pensate a un solo dato. Siamo passati da Draghi che non ha riuscito a scrivere una norma decente sugli extra profitti, da cui voleva ricavare 10 miliardi che non sono mai arrivati. Qui invece abbiamo un governo che ridenomina quella norma come contributo straordinario di solidarietà e vuole ricavare esplicitamente la relazione tecnica solo 2 miliardi e mezzo. Quindi pensate un poco che effetto di spereguazione si crea nel nostro Paese. Grazie. Grazie. Ora, a prescindere dal legittimo furore dialettico di Giuseppe Conte, è chiaro che bisogna fare una riflessione economica molto ampia sul reddito di cittadinanza, misura di carattere assistenziale, per alcuni giudicata provvisoria, per altri no. Voi che ne pensate di questa decisione del governo Meloni, Giovanni, poi Stefano? Ma diciamo che per certi versi la storia non insegna, perché in manovra oltre al fatto che non ci sono investimenti sulla sanità, io capisco anche il momento storico, sono altre priorità in questo momento, però insomma veniamo da una pandemia che ci ha in qualche modo segnati, ma ci ha segnati anche dal punto di vista economico, perché sono nati i cosiddetti nuovi poveri, quelle persone che non vivevano in situazioni di povertà, ma si sono ritrovate povere proprio sotto i colpi della pandemia e dei suoi effetti. Si stima che senza reddito di cittadinanza ci sarebbero stati un milione in più di poveri in Italia nello scorso anno. Insomma, cosa voglio dire? Capisco il momento difficile, capisco anche rispetto alle ragioni di accantabili di un governo che è di centrodestra ed è stato eletto dalla popolazione di centrodestra anche contro il reddito di cittadinanza, però è chiaro che siamo in un momento storico, penso, in cui non si può fare a meno di una misura come questa, che è assolutamente perfettibile. Ora, non è abolito, questa è un po' una iperbole che gira anche giornalisticamente, non è abolito, è fortemente revisionato, però restano molti dubbi sul futuro, sul 2024, perché poi l'anno prossimo ci sarà un'altra manovra, quindi chissà che non ci sarà un ulteriore passaggio verso uno smantellamento di una misura che, con tante lacune, ha aiutato grossi pezzi della popolazione in un momento complicato, difficile. Tu che ne pensi Stefano? Poi ti salutiamo e con Giovanni ci chiudiamo con una parentesi legata al PD, però intanto Stefano sul reddito di cittadinanza. Il governo dice di abolirlo dal 2024, l'impressione è che sia molto difficile, e già nel 2023 ci saranno degli effetti su quelli che vengono ritenuti occupabili, cioè le persone che potrebbero effettivamente trovare un lavoro, sono in condizioni di lavorare e che percepiscono il reddito. Viene da pensare che di fronte all'attuale crisi economica, quindi all'inflazione, al caro energia, alle bollette carissime, abolire una misura che ha sostenuto e sta sostenendo tantissime famiglie sembra difficile. Meloni evoca nel retroscena molto spesso il concetto di rischio sociale ed è effettivamente altissimo questo rischio sociale. Eliminare ora il reddito di cittadinanza, che permette a tantissime famiglie di vivere, può essere anche un fattore scatenante di proteste. Non a caso, è vero, l'intervento c'è stato nella legge di bilancio, ma è molto diverso da quello che il centrodestra per anni, anche in campagna elettorale, ha definito l'abolizione completa del reddito di cittadinanza da subito. Questa abolizione non c'è stata. Si rinvia al futuro, ma siamo davvero sicuri che in 6-7 mesi la situazione permetta poi di eliminare realmente questo sussidio? Ho qualche dubbio. Dubbi più che legittimi che in tanti hanno, anche perché sono misure che difficilmente sono nate e difficilmente anche sono smantellabili. Stefano, grazie del tuo contributo per money.it. Buona serata e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Noi invece adesso andiamo avanti con Giovanni, giusto tre minuti. Sentiamo Enrico Letta, l'ultimo video, così introduciamo anche il tema del PD. Enrico Letta. Abbiamo voluto fortemente dire, prendere una posizione su questa manovra che consideriamo una manovra iniqua, inadeguata, improvvisata. Inadeguata ad affrontare una recessione che sta arrivando. Iniqua perché prende alla parte più povera della nostra popolazione per redistribuire in modo del tutto ingiusto. Iniqua perché è una manovra economica che sancisce, come ha detto in modo assolutamente coerente la Presidente del Consiglio ieri, quando ha detto che questa manovra indica la strada della nostra identità, di quello che noi pensiamo e quello in cui noi crediamo. Questa è una manovra che fa una scelta che per noi è drammatica, drammatica anche in prospettiva perché farà danni duraturi. Sceglie cioè di farsi dettare l'agenda dagli evasori fiscali, di farsi dettare l'agenda da chi non vuole la fedeltà fiscale. E per noi questa scelta rappresenta una rottura in quell'elemento di fedeltà che oltretutto è fondamentale anche per far sì che il sistema funzioni. Queste le dichiarazioni di Ricoletta, ma in base a quanto ha scritto proprio Giovanni Manco sul Tag 24, il tema adesso all'interno del Partito Democratico è legato a Ellie Schlein. Eccolo qua, grazie alla regia. Schlein sulla cresta, ma il partito si muove verso Bonaccini. La situazione, Giovanni, hai due minuti a disposizione. Non è un ultimatum alla sole mista, ma è un'esigenza tempistica televisiva. Qua scrivi, è una corsa a due, ormai non ci sono più dubbi. Quindi Schlein contro Bonaccini, in gergo tecnico. Sì, con sfumature di grigio. Ad esempio c'è Dario Nardella che doveva essere della corsa, ma sembra possa ripiegare proprio su Bonaccini in funzione anti-Schlein. Quindi al momento sono loro, coloro che hanno guidato la giunta Emiliano Romagnola per anni, che si contendono la successione ad Enrico Letta. Bonaccini gode di largo consenso all'interno del Partito Democratico, Ellie Schlein gode di maggiore attrattiva forse a livello di opinione pubblica. Sappiamo che sarà un percorso costituente su due fasi, quindi interno al PD, ma anche esterno, con il lavoro dei gazebo e degli iscritti. Quindi sarà molto tirata al momento. Sicuramente è in vantaggio il presidente dell'Emilia Romagna, anche perché già fa parte del PD, invece Ellie Schlein dovrà riscriversi. È stata eletta indipendente alle elezioni politiche, quindi è in vantaggio il primo. Ma la seconda anche ha buon consenso, soprattutto nelle ale più a sinistra. Ecco, domenica al Monc, c'era Beppe Provenzano per lei. Quindi qualcosa si muove, soprattutto è un profilo molto codibile a livello di opinione pubblica. A proposito di vantaggio, notizia, pur sempre una notizia, in questo momento al 29esimo minuto il Portogallo è in vantaggio sulla Svizzera per 1-0. Grazie al gol di Gonzalo Ramos. Ora vi dirò perché ho detto questa cosa, intanto grazie a Giovanni Manco, grazie Giovanni, buon lavoro e buona serata. A voi, alla prossima. Non ho dato l'aggiornamento dei mondiali a caso durante un TG dedicato all'economia. Non mi sono impazzito, è un modo per lanciarvi la nostra prima serata del 264 alle 21.30 cose di calcio condotto da Deborah Carletti e Francesco Acchiardi. Lo studio, lo vedete? Eccolo là. È in preparazione più che mai con il nostro reparto tecnico attivo dal punto di vista del sistema delle luci e del posizionamento di tutto. Quindi seguite cose di calcio per essere aggiornatissimi sui mondiali. e quindi mi raccomando alle 21.30. Ma adesso io lascio la palla a spasso nel tempo con Fabio Camillacci, un viaggio nella storia. Dunque la programmazione di Cusano e TeleTV è ricca di spunti. E da Tommaso Franchi l'augurio a tutti voi di una buona serata.